Tra Sonia Bruganelli e Angelo Madonia è tutto finito? Un indizio social insinua il dubbio nei fan. La relazione fino a poco fa proseguiva a gonfie vele. Che cosa è successo? La personalità di Sonia Bruganelli divide in due il pubblico. C'è chi non condivide il suo modo di esporsi e chi invece adora il suo modo di fare. Opinionista prima del Grande Fratello e poi dell'Isola dei Famosi, è entrata nelle case degli italiani. Attualmente è tra le protagoniste di Ballando con le stelle. Tra i professionisti c'è la sua nuova fiamma, Angelo Madonia. Dopo la fine del matrimonio con Paolo Bonolis, sono spuntate diverse indiscrezioni. La relazione con Madonia ha però catturato l'attenzione del pubblico. La passione per la danza accende il loro rapporto. Lui partecipa a Ballando con le stelle insieme a Federica Pellegrini. La Bruganelli invece ha come accompagnatore Carlo Aloia. Nonostante questo però, la coppia sta lavorando allo stesso programma, complici e più uniti che mai, almeno fino a poco fa. Che cosa è successo improvvisamente? Sonia Bruganelli, amore al Capolinea con Angelo Madonia. La mossa social insospettisce. La relazione tra Bruganelli e Madonia è molto chiacchierata. Essere personaggi particolarmente esposti prevede una chiara difficoltà a mantenere la privacy sulla vita privata. Settimane fa, è spuntata un'indiscrezione in merito ad un passo importante fatto dal ballerino, quest'ultimo avrebbe scelto di trasferirsi vicino casa della Bruganelli, un modo per trascorrere quanto più tempo possibile insieme. Negli ultimi giorni però, c'è qualcosa che insospettisce i fan. Dal profilo social di Dejanira Marzano, una nuova indiscrezione li vede protagonisti. Come mai Bruganelli e Madonia hanno cancellato le foto di coppia dai rispettivi profili social? Nessuna spiegazione o dichiarazione è arrivata da parte dei protagonisti della vicenda. Chissà se i due hanno avuto qualche incomprensione o se dietro a questa scelta, si nasconde qualcos'altro. Molti fan ancora oggi, non riescono a credere che tra l'opinionista e Paolo Bonolis sia finita per sempre. Un matrimonio lungo tanti anni e dei figli in comune. In diverse interviste entrambi hanno sottolineato il bene e la stima che, per sempre, li unirà. La vita va ad ogni modo avanti, per questo è bene che Sonia, come Paolo, decidano di ricostruire una vita, anche amorosa, con un'altra persona. La Bruganelli sembrava felice con il suo ballerino, questa mossa social insospettisce. Non ci resta che attendere nuove evoluzioni per scoprire cosa sta succedendo. Nel frattempo Ballando con le stelle continua con grande successo su Rai 1. Il programma sta regalando all'opinionista, la possibilità di mostrarsi al pubblico in una veste diversa. Anche qui, c'è chi approva il suo modo di esporsi e chi, lo disapprova completamente.